Per iscriverti al canale schiaccia su iscriviti e sulla campanella per ricevere gli aggiornamenti delle notizie. Giuseppe Conte e il governo avevano promesso una svolta verde che si sta concretizzando grazie al decreto legge ambiente che prevede una serie di incentivi e bonus per indurre i consumatori e non solo a ridurre le emissioni attraverso determinati acquisti. C'è tra le novità contenute nella prima bozza del decreto un bonus da 2.000 euro per chi rottama l'auto. Ci sono i tagli agli incentivi per le attività inquietanti. Uno degli incentivi più significativi è quello per la rottamazione. Vale solamente per chi ha la residenza nelle città metropolitane e per le auto fino alla classe Euro 4. Il bonus dovrebbe valere per 5 anni e la cifra aspettante può essere utilizzata per acquistare abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale e per la sharing mobility con veicoli elettrici o comunque a zero emissioni e può essere sfruttato anche dai familiari conviventi.